Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nel lango dell'unico svago. Oggi siamo in casa Votof, che grazie alla collaborazione fatta con l'OFRF, questo nome è difficile anche da pronunciare, ha tirato fuori un All-in-One, una PodMod molto portatile, peso meno di 60 grammi, ha una pod a 2.5 ml, una batteria interna non sostituibile a 800 mAh, una forma che abbiamo già rivisto, ma qui vi dà la possibilità, grazie alle due coil che trovate in dotazione, di andarne a regolare anche la potenza. Il prodotto in questione di oggi è OFR NEXT MINI. Adesso, come al solito, non vi resta che mettere un pugno di like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, io ne ho una seconda che ho qui, in colorazione oro, e alla fine del video, come al solito, andate a scovare gli hashtag da inserire nei commenti per riuscire ad ottenere in forma totalmente gratuita questa podettina di casa OFRF, in collaborazione con la Votofo. Non ho capito se sono la stessa azienda, se uno ha assorbito l'altro, vabbè, ma questo poco ci interessa. Quindi non mi resta che augurarvi buona visione. iscrivetevi al canale, packaging trasparente in cartone per questa OFRF di casa Votofo NEXT MINI. vediamo alcune delle caratteristiche all'interno della confezione. Troveremo manuale di istruzione in tutte le lingue, cavetta USB Type-C per la ricarica, ricarica da 1 o 2.5V, e una seconda coil, perché una arriva premontata. Ed ecco la nostra pod All-in-One, frontalmente scritta NEXT CHIP INSIDE, gestita dal NEXT CHIP. troviamo il tasto Fire, il display, il tasto Up, il tasto Down. Su questo lato, offrf.com, che è anche l'home page della casa costruttrice, NEXT MINI. E su questo lato, così come anche da questo lato, troviamo i due forellini di alimentazione dell'aria. Sotto troviamo la presa Type-C, è batteria interna 800 mAh, non sostituibile. Sopra, invece, troviamo la pod, che è tenuta in sede da 4 magneti, è una pod da 2.5 ml in versione standard, e 2 ml in versione TPD. Vi faccio vedere anche l'interno della mod, dove troviamo i due contatti della coil, e i quattro magneti. Pod, in cui il drip tip è un tutt'uno, non può essere sostituito a questa forma, questo è il foro centrale del drip tip, scritto FRF. Qui troviamo, invece, questa classica linguettina, che andremo ad alzare, semplicemente così, con l'unghia. In questo modo. Ecco. Possiamo anche girarlo, e potremo andare a fare il refill. Foro, molto ampio. CE, smaltimento. E questo è il livello minimo, sotto cui il liquido non dovrà mai andare, perché rischeremo di andare a bruciare la coil al suo interno. Sotto, invece, troviamo questo piccolo adesivo, che permetterà alla coil di non attivarsi in modo involontario. Noi, per utilizzarla, dovremmo andare a toglierlo. Resta un po' di colla attaccata. Togliamola, togliamola per benino. E in più troviamo questa piccola ghiera, vediamo se riesco a farvelo vedere, dove ci sono uno, due, tre, quattro fori. E questo ci permetterà di andare a regolare il tiro e la nostra aria. Avremo quattro fori da un lato e quattro fori dall'altro. Quindi potremo partire da una regolazione di un forellino per entrambi i lati, fino ad arrivare a quattro fori, quindi per un totale di otto fori. Per andare a togliere la coil, è a innesto, quindi andremo a sfilarla in questo modo. Tra le spare parts troviamo anche una seconda coil, la coil che arriva premontata è un M21, che andiamo a vederla insieme, è una coil da 0,6 ohm, che va da 18 a 22 watt. E una seconda coil, M22, che è questa qui, è sempre una coil da 0,6, che va da 15 a 18 watt. Vi faccio vedere anche una cosa, la regolazione dell'aria è un tutt'uno con la coil, quindi quando andrete ad acquistare la coil, la troverete montata così, quindi non andrà tolta questa parte, perché è un tutt'uno appunto con la coil. Andiamo ad inizializzarla. Vi ricordo che l'inizializzazione è importante, perché permetterà alla stessa coil di partire in modo immediato e di essere anche più dura a turno del tempo. Andiamo a mettere un po' di liquido nelle asole laterali, senza imbrattarvi come faccio io, e un po' di liquido, qualche goccino qui al centro. Bene, prendiamo la pod, inseriamo la sua coil ad innesto in questo modo, pressate un pochino, e poi andiamo a fare il refill 2.5 ml. Notate che nonostante la pod non sia trasparente, il liquido al suo interno si riesce a vedere facilmente. Ritappiamo, ce la riposizioniamo in questo modo sulla mod. Adesso non ci resta che andare a vedere nel dettaglio anche il circuito. 5 clic sul tasto fire per accenderla, 5 clic per spegnerla. Andiamo a vedere, OFRF, troviamo il numero dei puff, gli ohm della coil, i watt in erogazione, la carica della batteria espressa in percentuale, e i volt in erogazione. Parte da 1 watt e arriva fino a 30 watt, 1, 2, 3 sul tasto fire per andare a bloccare sia il tasto fire, sia l'up che il down, risblocchiamo 1, 2, 3. Tasto up e tasto fire insieme, ed andremo a cancellare il numero totale dei puff, tasto down e tasto fire insieme, non fa nulla, insomma un sistema molto molto semplice. Adesso io vado a rimpostare, perché purtroppo non me la rimposta in automatico, il vattaggio corretto per la coil che sto utilizzando. Adesso non ci resta che andare a fare due svapate assieme, e scoprire cosa penso di questo nuovo prodottino di casa, OFRF NEX MINI. Ed eccomi tornato tra voi, ma prima di parlare di questa OFRF NEX MINI, questa piccola pod mod all in one, visto il grande interesse che ha suscitato in voi il video precedente dove regalavo due pod mod, ho pensato di creare un canale Telegram, fino adesso non l'avevo fatto, forse in passato qualcosa avevo cercato di fare, però poi non l'avevo mai portato a termine. Invece ho pensato di creare proprio un canale Telegram, unico svapo review, trovate il link anche in descrizione, lo metterò in cima alla descrizione, dove vi darò l'esito delle estrazioni, o comunque vi dirò in modo immediato chi si aggiudicherà i prodottini che di volta in volta avrò intenzione di regalare e le aziende vi permetteranno di regalarvi. E quindi questa sarà una novità anche per questo 2021, un canale Telegram che vi permetterà di interagire, sia con me, ma di interagire fra voi, tra la community di unico svapo, per scambiarvi dei consigli, dei suggerimenti, per ottimizzare alcuni prodottini. Insomma è arrivato il momento giusto per creare anche su Telegram una community che vi permette di interagire velocemente anche tra di voi. Io nonostante abbia pochissimo tempo, vi prometto che il tempo che dedico normalmente a tutti i canali social, ne ritaglierò una piccola fittina da dedicare anche allo stesso canale Telegram. Ma torniamo a parlare di questa Next Mini fatta dalla OFRF in collaborazione con Votofo, due aziende, penso che una abbia assorbito l'altra. Allora, io qui ho la coil da 0.6, la parallel coil, sono a 13 Watt, spero si possa vedere, e questo è il tiro che vi regala. Allora, sotto ho lasciato solo un foro aperto per parte, e questo è il tiro che vi regala. Ragazzi, veramente un buon tiro da MTL, un tiro lineare, un tiro non rumoroso, un tiro non grasso, abbastanza secco, non secchissimo, quindi questa coil la vedo bene, la vedo destinata, questo sarà qualcuno che si sta già iniziando a iscrivere al canale Telegram, comunque, la vedo, vi dicevo, ben destinata a chi vuole svapare dei liquidi tabacosi, a chi predilige comunque una svapata non grassa, ma leggermente secca, secondo me questa parallel coil ci sta tutta. Voglio andarvi ad aprire anche tutta l'area, giusto per farvi capire e capire insieme, quindi tutte e quattro i forellini aperti, una cosa che vi faccio vedere, purtroppo un po' di condensa sotto la trovate, ma intelligentemente, la stessa azienda ha creato un sistema che va a isolare quello che è il fondo della mod, con il resto del corpo batteria al suo interno e del circuito stesso, quindi problemi non ce ne dovrebbero essere, però purtroppo quando la lasciate a riposo, un bel po' di liquidino sotto la trovate. Allora, io ho aperto tutti e quattro i fori per lato, la vado a reinserire in questo modo, la porto a 15 Watt. Altra cosa, essendo un prodottino entry level destinato anche all'MTL, destinato a chi vuole smettere di fumare, vi sarebbe piaciuto che nel momento in cui vado a inserire la pod, così come fanno già tante altre aziende, il vattaggio si andasse a settare in modo automatico. Questa cosa non avviene, e tantomeno se superate il range di vattaggio, questa prodotta arriva a 30 Watt, ma se voi per errore andate a superare il range di vattaggio per quella coil che state utilizzando, purtroppo il circuito vi fa andare oltre, e rischiate di andare a bruciare la coil. Quindi questo è il tiro con tutti e quattro i fori aperti. Diventa un tiro da guancia, abbastanza aperto, ma non riusciamo a fare un tiro da flavor ristretto. Quindi comunque in tutte le modalità di regolazione dell'aria restiamo sempre nel range del tiro di guancia, nel range dell'MTL. Io vado a prendere l'altra pod che ho qui, qui ci ho messo la mesh coil, la vado a reinserire, vediamo un attimo i fori quanto sono, abbiamo un solo foro aperto, questo lo preferisco invece con due forillini aperti, e adesso vi spiegherò anche il perché. Sono a 15 Watt anche con la coil a mesh, e questo è il tiro che regala. Allora, anche qui abbiamo un ottimo tiro da guancia, l'unica differenza tra le due, che qui avendo una mesh coil, i sapori del liquido che voi inserite all'interno vengono leggermente mischiati, è un vapore che vi regala leggermente più grasso, quindi qui io ci vedrei benissimo, se avete voglia di svapare dei cremosi da guancia, io qui sopra ci vedrei benissimo, e l'unica cosa che tra le due fa un po' la differenza, è che nelle svapate compulsive, la parallel coil non riscalda, riscalda pochissimo la parte alta del drip tip, invece su questa a mesh coil, qui nelle svapate compulsive, tende a scaldare forse anche un po' troppo, nonostante abbassate anche il vattaggio, lo portate a 11-12 Watt, non abbassatelo più di 12 Watt, perché poi tenderete con entrambi le coil, a creare un po' di sovralimentazione, e quindi le coil inizieranno a spiltare, a buttarvi liquido in bocca, quindi, entrambe le coil dal mio punto di vista, sono assolutamente promosse, vi dico che ho la seconda, che voglio regalare, ne ho un'altra da regalare, in colorazione oro, che è questa qui, gli astaga che andremo a utilizzare, saranno OFRF, Votofo, e unico svapo, saranno tre gli astaga a questo giro, e poi nel canale telegram, in questi giorni, andremo a fare l'estrezione, e saprete chi di voi, si aggiudicherà anche questo prodottino, in forma totalmente gratuita, perché anche le spese di spedizione, saranno a carico di unico svapo, il prezzo di questo prodottino, è intorno ai 30 euro, visto 25-30 euro, vado a prendere il telefonino, perché vi voglio dare qualche, indicazione aggiuntiva, quindi con la coil da 0.6 a mesh, ho fatto, 165 puff, quindi 165 tiri, e ho consumato due pod, quindi all'incirca 5 ml, anche qui ho evidenzato, che con entrambe le coil, sia quella a mesh, sia la parallel coil, se lo lasciate a riposo, la notte, perché state dormendo, e quindi è sotto carica, specialmente perché siete costretti, a lasciarla in questa posizione, la mattina, trovate all'interno parecchio liquidi, e si ricarica all'incirca in 50 minuti, ricarica 1.2 ampere 5 volte, quindi una ricarica veritiera, batteria da 800 mAh, come vi ho detto, e la funzione pass-trò, quindi nel momento in cui lo state ricaricando, collegate il vostro cavetto Type-C sotto, mentre lo state ricaricando, potete tranquillamente utilizzarlo, quindi tutto sommato, mi sento di promuovere questo prodottino, perché? Perché le coil funzionano bene, sia la parallel coil, sia la mesh coil, vi dà la possibilità di utilizzare, sia dei liquidi di tabacosi, sia dei liquidi cremosi, sia dei liquidi fruttati, poi starà a voi scegliere, mi piace l'idea della regolazione dell'aria, perché comunque restiamo sempre nel range, del tiro da guancia, del tiro MTL, quindi questo è un altro pro, è piccolino, pesa meno di 60 grammi, display, nonostante sia piccolino, è abbastanza leggibile, mi auguro che integreranno, come funziona importante, lo smart varivate, quindi l'impostazione automatica del vattaggio, mentre qui noi andremo a inserire, la nostra coil, con il range massimo di utilizzo della stessa coil, oltre il quale non possiamo andare, così anche i più distratti, come capita spesso anche a me, non andranno a superare il vattaggio consigliato. Un upgrade possibile potrebbe essere, io lo trovo abbastanza comodo, il tiro automatico, però sappiamo, alcune aziende hanno deciso di non utilizzare il tiro automatico, proprio perché poi a lungo andare, o nel breve periodo comunque creava dei problemi, secondo me qui il tiro automatico ci stava, è vero che perde, e troviamo sotto parecchio liquido, però se avessero trovato una soluzione intelligente, anche per adottare il tiro automatico, poteva essere anche un pro in più. Insomma, questo era Nex Mini di casa, o FRF, fatta in collaborazione con Votofo, mi raccomando, nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodottino, utilizzate gli hashtag corretti, per raggiudicarvi questo secondo prodottino, io mi auguro che in futuro, le aziende, vi manderanno sempre più prodotti, perché questa formula, sinceramente non mi dispiace. Vi ricordo ancora di seguirci su tutti i social, trovate tutto in descrizione, se avete qualche domanda da fare, fatela nei commenti, e come dico sempre, sì, come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Ciao ciao, alla prossima!